Stop running your fingers through your hair I'm putting my card up and leaving it there I won't be a fantasy Porigrotta, Mostra dottemare, Aestetica 2023, 26esima edizione Mi trovo qui per curiosare il mondo magico dell'estetica Venite con me! Mostra dottemare e fuori grotta alla Fira dell'estetica E sono presso lo stand Venere Qui in compagnia di Stefano Preta Santi Lui che è il gestore, il fondatore, uno dei fondatori di questo bellissimo software gestionale per le estetiste Da oltre 20 anni, raccontami un po' la storia Stefano Sì, buongiorno Venere è nato 20 anni fa insieme al mio socio Daniele Tringale Per risolvere i problemi della titolare di un centro estetico che gestiva ancora tutto con carta e penna E quindi aveva difficoltà nel trovare le informazioni delle clienti, le schede, gestire gli appuntamenti Da quel momento nacque Venere E oggi dopo 20 anni, tante fiere, presenza in tutta Italia Venere è lo strumento più utilizzato dalle titolari dei centri estetici E questa fiera come sta andando? Oggi l'abbiamo battezzata? Come la trovi quest'anno la fiera? La fiera a Napoli diciamo ci ha visto nascere, qui c'è una crescita costante del pubblico La qualità proprio della titolare, sai, dei centri che viene a partecipare alla fiera È sicuramente cresciuto nel corso del tempo Resta comunque la fiera più importante nel settore dell'estetica del centro sud Italia Quindi invitiamo tutte le estetiste a venire qua in fiera fino lunedì mi sembra? Sì, bravissima, ci vediamo Entro lunedì mi raccomando Così possiamo darvi anche l'opportunità di provare Venere gratis per 14 giorni Di Stefano ci sono tantissime offerte e poi volendo loro dove ti possono venire a trovare Noi essendo digitali viviamo anche ovviamente una vita reale fatta di persone Ad ogni modo il sistema più semplice per mettersi in contatto con noi è andare sul nostro sito internet Che è www.softwarevenere.com Made in estetica qui con Maurizio, ciao Maurizio Ciao, buongiorno e benvenuti Questo angolo di questa bellissima fiera è un angolo meraviglioso, vedo, è molto particolare Voi cosa puntate? La donna cosa punta nel vostro centro estetico? Allo star meglio, noi siamo in questo settore ormai da più di 25 anni Quindi sappiamo un po' quelle che sono le esigenze e quelle che sono le richieste del consumatore finale Quindi Made in estetica si prodica per far sì che tutto ciò si possa avverare Dalla linea dei cosmetici di cui siamo distributori Scandor e Keysargeri Siamo i distributori del marchio Sportarredo, abbiamo una nostra linea di tecnologie che è Bitec Abbiamo inventato qualche anno fa il marchio Be Light U che parla di dimagrimento attivo E siamo i distributori per la campagna del marchio Mantis Quindi tutto quello che è il mondo Made in estetica oggi riesce a soddisfare un po' tutte quelle che sono le esigenze di un centro estetico Quindi invitiamo tutte le donne ma anche gli uomini, al giorno d'oggi sono più gli uomini che le donne che si curano Abbiamo una serie a pomigliano d'arco dove abbiamo il nostro showroom, la nostra sala corsi Perché siamo anche molto organizzati per un iter formativo importante E poi abbiamo dei nostri centri satellite un po' sparsi in tutta la campagna Questo favoloso stand con i responsabili Claudio e Giuliano Che ci parlano un po' di questo mondo bellissimo che è l'estetica Salve, salve a tutti Giuliano, Claudio, responsabili Campania Germaine dei Cappuccini Diciamo che rappresentiamo a 360 gradi quello che è un attimino il progetto di estetica avanzata Ne ricopriamo circa 80 paesi del mondo In Campania abbiamo un plafone di circa 120 clienti Dove cerchiamo di offrire quello che un attimino l'esigenza del mercato oggi tende a rappresentare Che è quello della cosmetica avanzata Cosa richiedono di più le estetiste? Cosa esigenze hanno? Beh, sicuramente tutto ciò che riguarda la consulenza di persone affidabili a cui rivolgersi Poi chiaramente c'è tutta la parte qualitativa di un cosmetico come Germaine A chi trovo qui in questa fiera? Il mattatore della TV Il mondo non è piccolo, è la fiera che è così piccola Poi oltre al mio trovi Maurizio Letta che è l'allestitore della fiera Benissimo Dobbiamo dire le parole su questa fiera Allestita bene, chiaramente E poi invitiamo le persone a venire in questa fiera Perché si parla della bellezza, del wellness, del benessere Viviamo su una sfera di stress che è incredibile E qui magari uno, se volesse soltanto, come stiamo facendo in Maurizio, passeggiare in modo itinerante tra i vari stand Guardi cose belle che nella vita quotidiana non guardi E ti riprendi Una botta di ossigeno Una botta di ossigeno questa Invitiamo i tuoi telespettatori al nostro stand che siamo la televisione ufficiale Weekend Hands Padiglione 4 Regaliamo un gadget Cinema Oggi Web TV Ciao Vi seguiamo sempre Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro estetica group qui con salvatore russo salvatore bellissimo questo tuo stand meraviglioso mi dici un po cosa vi occupate esattamente nel mondo dell'estetica salve a tutti allora come ha detto sono salvatore russo allora ci facciamo estetica a 360 gradi iniziamo sia dai macchinari tutto quello che sono macchinari siamo sempre a ricerca di di evoluzione e siamo la mia azienda si chiama come diceva estetica group abbiamo sulla cosmesi un prodotto tutto nuovo nostro e siamo i primi in italia si chiama loro del deserto fatto a base di latte di cammella un'altra novità ce l'abbiamo dall'altra parte lo stand che si chiama tesla med e lì siamo gli unici nel mondo ad avere questa tecnologia io sono il concessionario di tutto il sud italia l'unica azienda che è entrata a far parte della mia azienda un'altra novità ce l'abbiamo alla sinistra che il laser a led sono il primo in italia portato il laser a led qui alla fiera e diciamo che tutto quello che si parla di benessere bellezza e di estetica la estetica group è presente dove vi trovate estetica group si trova nocere inferiore via eugenio siciliano sono qui presso la stessa mente qui con l'idiatore il signor alberto bannino ci spiegherà un poco questa innovazione della tecnologia nel mondo dell'estetica certamente questa è una tecnologia assolutamente innovativa per la prima volta grazie a un flusso di ioni ovvero atomi liberi è possibile riuscire a trattare decine di inestetismi diversi uno dall'altro tra cui le micro rughe del viso il rimpolpamento delle labbra ancora il miglioramento dei glutei innalzamento del seno l'inalzamento della palpebra quando cade insomma veramente è un'innovazione assoluta e dal punto in cui ho iniziato questo meraviglioso viaggio nel mondo dell'estetica vi auguro una bellissima serata e all'anno prossimo con estetica 2024 mi raccomando per vedere queste meravigliose immagini scaricate italia online tv social la meravigliosa app che permetterà attraverso il canale cinema oggi web tv di vedere tutte le nostre rubriche ciao stop running your fingers through your hair i'm putting my guard up and leaving it there i won't be a fantasy stop running your scars you Grazie.